Lavori in arrivo per il ponte sul torrente Goglio a Gromo lungo la provinciale dell'Alta Valseriana. L'intervento che verrà realizzato anche grazie a fondi della regione permetterà pure di completare la pista ciclopedonale che in quel tratto è ora interrotta. Qui parliamo del tratto ciclopedonale nella zona della caserma dei forestali dove il comune di Gromo comunque aveva già realizzato due tratti ovviamente che collegavano il piazzale del Borgo con la zona appunto della caserma dei forestali mancava chiaramente questo lo sapevamo però era nella nostra intenzione quello di realizzarlo tutto quindi anche in questo caso era stato diviso in lotti il primo lotto fatto e completato questo secondo lotto per un importo di 270 mila euro dovrebbe vedere la luce questa estate perché di fatto sono arrivati questi fondi della regione Lombardia per un importo di 100 mila euro. Il comune di fatto ha già stanziato le risorse per proseguire quindi comunque l'opera è interamente coperta adesso comunque ci stiamo parallelamente muovendo per trovare altri soldi visto che interessa anche un tratto di provinciale perché comunque verrà allargato anche il sedime del ponte esistente che è il sedime carrale di proprietà della provincia quindi comunque ad oggi sono previsti dei lavori però è chiaro che stiamo trattando con la provincia per recuperare altre risorse che chiaramente sono in carico a loro quindi questo abbasserà la quota parte di contributo da parte del comune di Grom sicuramente questa è un'opera importante che diciamo conclude quel litter diciamo difficoltoso però chiaramente che abbiamo intrapreso per realizzare questo pezzo di ciclo pedonale e permettere di collegare il borgo con la parte bassa il laghetto di perca sportiva quindi la zona quella appunto un po' più fruibile dal punto di vista turistico verso il fiume. I lavori permetteranno dunque di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni sentiamo in che modo Allora sull'impalcato esistente di fatto verranno demolite le spalle quindi i parapetti laterali verrà allargato in quanto dopo l'opera resterà solo ed esclusivamente per il passaggio auto cioè per il passaggio carrale e di fatto viene costruito un impalcato situato di fianco che è dedicato alla pista ciclo pedonale e quindi di esclusiva competenza per i pedoni e per le bici quindi in totale sicurezza dividendo appunto quelli che sono i due flussi tra carrale e pedonale che invece adesso risulta pericoloso e difficoltoso il transito di tutti gli utenti contemporaneamente. A Gromo in questo periodo si sta inoltre lavorando per rimettere a nuovo l'illuminazione pubblica nella frazione Boario Spiazzi. Sentiamo ancora il vice sindaco. Rifacciamo tutta l'illuminazione sostituendo tutte le lampade con delle lampade a led. Già qualche anno fa avevamo fatto un bando per la progettazione, realizzazione e gestione del nostro impianto comunale per una durata di 15 anni che era stato vinto dalla società Era Luce. Questa società ha fatto un'analisi costi benefici e ha deciso di sostituire tutti i corpi illuminanti dalla località che già erano comunque a risparmio energetico perché erano a sodio ad alta pressione quindi comunque erano già dei corpi performanti. Però appunto si fa anche questo salto in più mettendo una tecnologia led che al comune di fatto non costa niente perché come dicevo l'intervento rientra appunto di un'analisi fatta dalla società che ha in gestione l'impianto per cui il comune si ritrova con un impianto ancora più efficientato se possibile ma non spendendo un euro per cui ecco questo risulta che la scelta fatta a suo tempo fu una scelta sicuramente vincente in questa direzione. Allora i lavori sono già in corso di realizzazione, la ditta sta già sostituendo i corpi illuminanti si parla di un mese, un mese e mezzo circa in quanto comunque sulla strada la sostituzione risulta semplice ma nel paese quindi nelle case quelle un po' più difficilmente raggiungibili, le mezze un po' più grossi ci vorrà qualche giorno in più. Grazie